Dunque, c'è una cosa di cui tuo padre e io... Sì, ecco. Vogliamo... C'è una cosa di cui mamma e io... Di cui vogliamo parlarti. È un pochino seria, però... Già. Dove sono le mie mutande? Non ne ho la più pallida idea. Scusa, ma per caso ci conosciamo? Sì, no, ecco... Ti ho investito io. Scusa. Figuraci. Comunque, mi chiamo Almut. Tobias. Sarà un'esperienza indimenticabile. Ciao. Ciao. Forse è meglio che vada. E chi lo dice? Sempre se non hai altro da fare. No, che non ce l'ho. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato. Perché esiste una possibilità molto concreta e reale che mi stia innamorando di te. Sto bene. Sto bene, davvero. È normale non stare bene. È dura. Dunque allora? Non mi interessa una terapia che possa farci perdere tempo. Perché corri questo rischio? Perché non voglio essere dimenticata. Sono colpevole di voler guardare al futuro invece di guardare quello che è davanti a me. E' suetti. Ci siamo. Credi che posso camminare? È davvero assurdo. Scusa, ok, ok. Stai bene? Scusa, ok. Scusa, ok. Grazie a tutti.